Quindi oggi e tuo padre abbiamo deciso che andiamo dai padroni a dirgli quello che pensiamo perché ci siamo stancati di questo mondo di chi mangia la carne e di chi mangia l'ossere che a noi Peppi manco l'ossere ci hanno dato, manco l'ossere ci hanno dato Peppino! Ma che ci avranno mai detto i miei genitori a questi padroni? Che se li sono venuti a prendere i carabinieri? Grazie!